Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z da Khan Battle Avete visto la copertina del video, Rip Vegito Blu è il titolo, c'è la data in cui è uscito la prima volta e c'è la data del suo EZA Perché è Rip, Rip veramente Ne voglio parlare un pochino perché qua è un livello imbarazzante, ok? Non mi serve fare showcase per dire che è un PG di merda, ok? Non mi serve fare uno showcase per dirlo Parliamo un attimo prima di tutto dell'EZA, ok? Raises Attack Death dalla 12, Caus Colossal Damage to Anime in Lowers Attack, era un Raises Attack Death e causa Colossal Damage La 18, Greatly Raises Attack Death per un turno, causa Mega Colossal Damage Prima era solo Greatly Raises Attack per un turno, causa Mega Colossal La passiva è qua, in realtà è poi ancora più ridicolo Cioè le special in sé vanno anche bene Ma la passiva le rende una merda Spieghiamoci Attack Death 100%, siamo passati da Attack Death 80 20% Un misero 20% Facciamo una cosa Forse è meglio che qua prendo Name, un attimino Fatemi andare sulla C Captain Genu Ok? Prendiamo il Tech Dai, prendiamo il Tech Che il fisico aveva le stats, quelle, quelle flat Quindi, non prendiamolo Quanto era questo? Extreme Class Allies Attack Death 30 Genu Force e Category Allies Attack Death 20 in addition I più 3 Attack Death 59 Addition All Attack Death 10 fino a un massimo di 59 Per Genu Force Category Alliance on the team Extreme Class Allies Attack Death 30 Genu Force Category Allies Attack Death 29 in addition Ragazzi mi state dicendo veramente che l'unica cosa che hanno aggiunto a Vegito Blue STR è un misero Scusate 20% Attack Death Ok? Continuiamo, dai Raises Ki A by up to 10 The less HP remaining the greater the Ki boost Medium Chance of Ki più 5 Continuiamo un attimino Lancia un additional attack Con una medium chance di diventare un super attack Se avete lanciato una 18 Quindi Ovviamente dovete tirare le 18 Per avere la medium chance Che arrivi un additional special Ki più 2 Continuiamo E disabilita la guardia nemica Quando c'è un altro Future Saga Category Allies Attacking in the same turn Ricordiamo un attimino il kit generale vecchio Raises Attack Death and Cause Colossal Damage Era la cosa più importante sua Ok? Si boostava Attack Death all'infinito facilmente Aveva Attack Death 80 E aumentava il suo ki fino a un massimo di 10 Più HP Meno HP scusate Più Ki Boost Kit molto semplice Si poteva migliorare in tutti i modi possibili Però Quando si lascia Chi ha creato Radish fisico Si lascia creare L'Ezza Esce l'Ezza peggiore del gioco Esce la free to play peggiore del gioco Oserei anche dire Che è più forte Goku Junior e Vegeta Junior LR Sono più forti di questo Oserei anche dire Che partire in 18 ki O 17 Nel caso peggiore È anche di più in realtà Però oserei dire che nella situazione Che siete al primo turno Partire in 17 ki Oppure Partire in 18 Quando avete perso 10% HP In 19 Quando avete perso 20% HP E vado avanti Non serve a un cazzo A un PG Che doveva tirare maggiormente le 12 ki Eh ma TTD La 18 hai la possibilità di media chance Di tirare la spe Media chance Quindi sperate che ogni turno Lui mi faccia la 12 No perché sto stronzo Mi parte a 17 ki Facciamo il conto del ki Ok Si è vero È medium chance Di chi più 5 Peccato che quando si attiva Non tiro la 12 Peccato solo quello Però comunque Chi più 5 Ok Contiamo che siamo al 100% di vita Primo turno Chi più 5 Chi più 2 Dal Future Saga Chi più 2 Da Fused Fighter Ok Partiamo con una lead 6 Partiamo che ci abbiamo anche un buffer Chi più traga da quel buffer Parto in special Why? Non ce n'era bisogno di tutto sto ki? Non ce n'era minimamente bisogno di tutto sto ki? E poi effettivamente mi danno solo Attack ed F20% in più Eh ma TTD Hanno modificato anche le special Le SA25 Ora E quindi E quindi Non me ne frega assolutamente un cazzo Che sia SA25 Qua hanno proprio Pisciato fuori dal 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 water Ok? Hanno proprio Completamente Chi cazzo ha fatto sto EZA? Cioè nella stessa celebrazione esce L'EZA Legendary Banner Più forte del gioco Perché finalmente Abbiamo qualcuno che detrona Broly Perché non c'è stata Non c'è stato EZA Dopo Broly STR Dei coin Che fosse Oh mio dio Assurdo Abbiamo Abbiamo Zamasso e Rosè Che ora possiamo ridire finalmente Oh mio dio Assurdo Nella stessa celebrazione Fanno anche l'EZA Una delle carte Che la gente stava aspettando di più E fa cacare Ma completamente Cacare Sta roba Vi dico effettivamente Come si fixa Toglieteli un bel po' di chi Intanto Invece di Attack Def 100% E basta Aggiungiamo un pochino di più Un pochino di più Non dico che deve essere 200% È un EZA Free to play Ma 100 Cioè Li diamo solo 20% Infatti è RIP Vegito Blue Perché RIP Perché effettivamente Questa carta Uscì in un momento Dove Se avevate ad Ability Bassa Vegito Blue Tech Prendiamo Ability Free Vegito Blue STR All'epoca Ricordatevi Non potevate mettere Gli stessi PG Con lo stesso nome No Non si poteva fare Il team che giocavate Vegito Blue LR STR Vegito Blue Tech Ok Non potevate Quindi all'epoca Si doveva scegliere Uno dei due E ripeto All'epoca Questo Vegito Era meglio di Vegito Blue Tech Sotto molti aspetti Difensivamente Era più forte Ovviamente Offensivamente No Ma importava Soprattutto in Road Che era il content Più difficile Riuscire a salvarsi E Vegito Tech Non lo faceva Da Ability Bassa Non faceva abbastanza Danno da dire Ok Non tanko niente Però almeno Shotto tutto No Non riusciva a shottar tutto E quindi Vegito Blue Vi tornava veramente Utile come carta Anche su account Che avevano anche Il box bello pesante Vegito Blue Era Un'ottima Free to play In data 11 Ok 11 luglio Ormai È già il 12 Scusate Il video l'ho fatto Il giorno dopo Però comunque In data 11 luglio Vegito Blue È morto completamente Perché questo Ezza Non ve lo farà mai giocare Questo Ezza Non è utile Neanche in una Lvie Di merda Che si batte Con la merda Cosa vi serve Un PG Che Non fa effettivamente Danno Non tanka mai E dovete sperare Che per tankare Voi partite Quasi sempre In 18 Dovete sperare Nella medium chance Di tirare un add Va bene Ok Sì No Beh Certamente Ragazzi Cioè È una genialata No È una fottuta Genialata Ragazzi Cioè Non vedete La potenza Di questo Vegito Sono veramente Deluso Sono veramente Deluso Da come hanno Fatto questo Ezza Ok Sono veramente Deluso Da come Da come è possibile Rovinare una carta In questo modo Cioè Questo è proprio Aver rovinato la carta Perché ricordiamoci Una volta che fanno Un Ezza Non toccano mai Più una carta E giusto Parlando un attimino Di questo Parliamo un attimino Del movement Che si è creato Da Kowai Quello che vedete È il post di ieri Di Vegito Blu Con le informazioni Di Vegito Blu Quindi tutte le cose Che riguardano Il suo kit Ok Bene È partito Da Kowai Questo messaggio E tra parentesi È una delle poche volte Che i giapponesi Si sono anche Incazzati Che fa schifo Quindi C'è la possibilità E c'è anche È giusto dirlo Un attimo Un fatto che è successo Tanto 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 tempo fa Con Goten Super Saiyan 3 Goten Super Saiyan 3 Stava per uscire In un modo Veramente schifoso Aveva Da una delle special Mi sembra 12 Si debuffava pesante E i giapponesi Ha fatto veramente Tanto schifo I giapponesi Si sono rivoltati E in un giorno Hanno cambiato Goten Super Saiyan 3 Visto che L'Ezza di Vegito Effettivamente Non è in game Parliamoci E chiariamoci Al momento Questo problema Deve essere risolto Ok Questo è il messaggio Ok Io ve lo lascio scritto Sotto nel commento Pinnato Se avete un account Di twitter Andate Assolutamente A spammare Questo messaggio Sotto il post Di Dokkan Official Facciamoci ascoltare Perché questo è L'unico modo Per far si Che Vegito Blu Non sia Un LR Che fra 4 mesi Quando la porterete Ad Ezza Non sia un LR Da box Facciamolo Possibilmente Tornare Come era All'epoca Un LR Che vi poteva aiutare Anche se avevate Un account Di quelli Veramente forti Ragazzi Spero il video Vi sia piaciuto Scusate un attimo L'incazzatura Questo non è un Ezza È una merda Totale Non lo voglio più Vedere sotto i miei occhi Fa veramente Cacare Ok Questa è l'unica cosa Che ho da dire Di buono Su di lui Ricordiamoci Che creano Dei free to play Come Giniu tech E Giniu fisico Ricordiamocelo Due free to play Della Madonna E oltretutto Due free to play Oserei dire Anche Alla pari Di certe Pullabili Ok Mentre avevi agito Poveraccio Una carta di merda Lasciata lì Con un Ezza del cazzo Detto questo Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Ragazzi Mi scuso ancora Se ero un po' incazzato Però Era giusto fare il video In questo modo Detto questo ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti